Oggi giorno come viene gestito il paziente con sclerodermia e soprattutto è possibile erogare le cure che si sono evolute di continuo direttamente a casa del paziente? Abbiamo posto queste domande al dottor Oscar Massimiliano Epis, direttore della struttura complessa di reumatologia all'ospedale Niguarda di Milano. L'abbiamo incontrato proprio a Milano nel corso di un evento rivolto alla stampa medica nel corso del quale è stata presentata la campagna informativa La Sclerodermia è anche nostra, promossa da tre associazioni di pazienti, GILS, LIS e AMRER e realizzata con il contributo non condizionato di tal farmaco. Dottor Oscar Massimiliano Epis, buongiorno. Come viene gestito il paziente con sclerodermia? Ci racconti il percorso di cura dalla diagnosi in poi? La fase più importante è quella diagnostica, ossia di identificazione del paziente. Diciamo che uno dei primi sintomi del paziente sclerodermico sono le cosiddette mani bianche, che è il fenomeno di reno. Quindi nel momento in cui un paziente ha un fenomeno di reno bisogna iniziare gli accertamenti, che sono esami del sangue banali biomorali, tra virgolette, piuttosto che la capilaroscopia. Sarebbe estremamente indicato che in questa fase il paziente venisse già indirizzato presso un centro di reumatologia al fine di effettuare un percorso diagnostico completo. Formulata la diagnosi, la sclerodermia è una malattia che coinvolge molti organi e quindi è importante andare a studiare, a stadiare i vari interessamenti, che può essere polmonare, renale, cardiaco, articolare e altro. È ovvio che a questo punto, una volta che è stata formulata la diagnosi corretta di sclerodermica o di sclerodermia e iniziato un trattamento terapeutico, il paziente deve essere seguito con un follow-up stretto. Cosa vuol dire? Che se c'è un interessamento particolarmente importante a livello vascolare, quindi il fenomeno di reno è la caratteristica predominante, magari anche accompagnato da ulcere, deve effettuare delle terapie con dei vasodilatatori che ad oggi vengono ancora somministrate prevalentemente in ospedale, il coinvolgimento di altri organi prevedono altri percorsi fino all'utilizzo di immunosoppressori e di altri farmaci. Ecco, è possibile erogare le cure direttamente a casa del paziente? Cosa serve? Di conseguenza i nuovi dispositivi indossabili per l'erogazione dei farmaci rappresentano un passo in avanti? Potenzialmente sì, nel senso che i vasodilatatori, che sono farmaci che vengono somministrati per 6-8 ore al paziente, oggi vengono somministrati in ospedale. Ho detto potenzialmente sì, perché in teoria potremmo somministrare in particolari tipi di pazienti questi farmaci anche a domicilio, dico in particolari tipi di pazienti perché i farmaci possono avere effetti collaterali, quindi è bene identificare con attenzione i pazienti che hanno già fatto queste terapie in ospedale, non hanno avuto effetti collaterali, quindi sono pazienti con un buon profilo di sicurezza, o questi pazienti potrebbero avere anche la terapia a domicilio. L'utilizzo della telemedicina, del telemonitoraggio che oggi va molto di moda e che noi appoggiamo in modo pesante, ci aiuta ulteriormente nel garantire la sicurezza al paziente, perché se da remoto al centro di riferimento arriva l'indicazione che il paziente che sta facendo quella terapia a casa ha un calopressorio, un'alterata frequenza, ecco questo, permette un intervento immediato del clinico e quindi abbiamo non solo la comodità, che è sicuramente importante, ma anche la sicurezza della terapia fatta a domicilio che deve essere la nostra priorità, perché prima di tutto dobbiamo garantire la sicurezza al paziente.